I cinesi devono avere una veduta del mio seno. Nella mia vita non ho mai lasciato niente al caso. E questo come lo chiami? Se ha cinque minuti è solo una firma. Qui non mi riconosci davvero? Deve esserci un errore perché io mi chiamo Margaret Flory, qui c'è scritto Margherito. Un errore, non mi dica. Vabbè, e qual è l'errore? Carissima me, mentre mi leggi è il tuo compleanno. Quindi ti scrivo questa lettera per aiutarti a ricordare le promesse che ho fatto oggi, nell'età della ragione. Ma cominciamo dalle cose più importanti. Che cosa sei diventata? Veterinario per balene? Principessa? Ma è scontato. Ecco la lista delle cose importanti nella vita. Fare i migliori aeroplanini di carta? Risalire le scale mobili che vanno all'ingiù? Baciare un principe. Smetta immediatamente di importunarmi con quelle lettere. Non voglio ricordare la mia infanzia. Eppure è per questo che ne hai scritte. Raccontami la tua infanzia. Perché? Perché voglio sapere se tutti cambiano. Che vuol dire crescere? Crescere, andare avanti. La cosa più importante al mondo è non dimenticare mai le persone che amiamo. Io e Filibert ci siamo sposati. Avevo un amico d'infanzia. Sì, Filibert. Ti perdi per questo? Carissimo amico, spero che tu non abbia dimenticato l'appuntamento. Tu sei quella che ha voluto cambiare, non io. Mi sento completamente persa. Brucia quelle cazzo di lettere e dimenticale. Darà solo una stupida cotta tra bambini. Ma che fai? Oscar Wilde ha detto È importante avere dei sogni abbastanza grandi da non perderli di vista mentre si perseguono.